Chanel Totti si è fidanzata. Il video spunta sui social infiamma il gossip. Chanel Totti si è fidanzata. La figlia dell'ex capitano della Roma e di Lari Blasi era sabato sera in una discoteca di Roma. Insieme ad un gruppo di amici. Sui social gira un video in cui la quindicenne appare insieme ad un ragazzo. Che è, seduto alle sue spalle, la abbraccia e la bacia sulla testa. Nel video si vede Chanel chiudere gli occhi con un atteggiamento da sognatrice. Chanel Totti, è arrivato il principe azzurro. I due sembrano essere molto legati. Nonostante sui social Chanel abbia spesso ribadito di essere singola e sfortunata in amore. Sono in molto a pensare che il principe azzurro sia finalmente arrivato.